Musica Hola ragazzuoli, benvenuti in questo nuovo video su Vitamod Ciao ragazzuoli, oggi vi porto l'upper patch del Geek Art of Defense in modo massivo, è veramente facile Allora, siamo in una sessione ad inviti Poi ci servirà la mira assistita parziale o completa Perché utilizzeremo un account che sta in un lavoro da titanio in una sessione ad inviti in mira manuale Se questa persona è offline potete utilizzare lo stesso metodo con un vostro amico L'importante è che avete la mira differente l'una con l'altra Dopodiché andiamo su Wastock, andiamo sullo slot 3 e andiamo a prendere il deposito veicoli personale Ok, mi raccomando importantissimo come requisito Dopodiché andiamo su Mates Bank e andiamo a vedere cosa ci serve per il nostro nightclub Servirà a qualsiasi nightclub e l'importante è che all'interno avete lo speedo custom Ok, poi dopodiché andiamo a prendere la nostra fedelissima LG RH8 E la andiamo a mettere direttamente nel nostro centro operativo mobile Oppure ovviamente potete utilizzare qualsiasi altro veicolo che volete sacrificare Io ovviamente l'avevo già acquistata ve lo faccio vedere dalla clip Dopodiché ragazzuoli serviranno le icone blu sulla mappa Quindi vado su Nasconde opzioni, su attività, su tutte le attività e metto personalizza Perfetto, vedete ho tutte le icone blu sulla mappa Ok, perfetto A questo punto ragazzuoli non tanto importante come requisito Perché potete utilizzare anche un appartamento se non avete l'RC bandito Ma servirà anche l'RC bandito Perfetto A questo punto una volta che abbiamo tutti quanti i requisiti Andiamo su veicolo e richiamiamo lo speedo custom del nostro nightclub Una volta che spawno lo speedo custom ci mettiamo all'ingresso del nostro nightclub Con il touchpad aperto, mi raccomando perché se no vi fa entrare Quindi touchpad aperto, andiamo sull'ingresso del nightclub A questo punto ragazzuoli vi do l'account della persona che sta in una sessione ad inviti in mira manuale Un lavoro da titano Se voi non ce l'avete, ripeto, potete utilizzare lo stesso metodo con un amico Ok, l'importante è che avete ovviamente la mira è differente l'una con l'altra Quindi partecipo all'account che vi lascio qui sulla clip del video Aspetto il recupero dettagli della sessione Una volta che esce questo messaggio qua, devo spammare x Ok, quindi vado a spammare x Una volta che vado a spammare x uscirà l'immagine buggata Quindi vuol dire che vi siete glitchati, vi siete buggati A questo punto ragazzuoli, tornando in sessione Premeremo triangolo su questa schermata Cadremo nel vuoto e saremo sotto mappa A questo punto premeremo option Andiamo sulla mappa Ok, quindi andiamo sulla mappa E andiamo a selezionare un'icona qualsiasi sulla mappa Con un quadrato e x Ci farà entrare in una lobby Ok, appena ci dà la possibilità Possiamo uscire dalla lobby con un cerchio e x Quindi facilissimo fino adesso Ok, unoltre respawnati saremo invisibili Faremo di nuovo doppio tasto PS Ripartecipiamo dal nostro amico o dall'account Che vi lascio qui nella clip video Dopodiché ritorniamo in sessione con i recuperi dettagli della sessione E accetteremo tutti i messaggi che usciranno Ok, accetto il primo, accetto il secondo Poi dopodiché una volta che accetto il secondo Ci sarà questa animazione e accetterò anche il terzo Perfetto, a questo punto ragazzoni Saremo già buggati Quindi per testare se siamo buggati Possiamo utilizzare o l'RC bandito O comunque l'appartamento Per come vi dicevo prima Io testo con l'RC bandito Entro nell'RC bandito Una volta che sarò ovviamente con l'RC bandito Premerò triangolo Se al mio rientro Lampeggerò come in questo caso Vuol dire che sono buggato A questo punto mi reco al posto di scambi Quindi servirà l'amico che ci passerà l'auto Io ho già chiamato il centro operativo mobile Ho già chiamato il mio veicolo che voglio sacrificare A questo punto vado sul veicolo che voglio sacrificare Premerò triangolo Salirò su E salirà anche il mio amico Premerà triangolo E si metterà in pausa Quindi con option Io a questo punto vado dietro il mio centro operativo mobile E attenzione a questa parte Perché qua sta l'upper patch Premerò una volta freccia destra Il mio amico scenderà in automatico Faccio retromarcia Con triangolo scendo dal veicolo Dopodiché faccio il trick di Franklin una sola volta Mi avvicino all'icona blu del centro operativo mobile E attenzione a questa parte Appena esce questa schermata Premerò option Poi dopodiché cerchio e faccio entra da solo Nella schermata nera ragazzoli facciamo il trick di Franklin E subito touchpad Ok Come nella clip Teniamo il touchpad per tutto il tempo Fino a quando non prendiamo il veicolo Perché in questo modo saremo Praticamente sempre invisibili A questo punto una volta vicino Premeremo triangolo E saliremo sul veicolo che vogliamo prendere E ci teletrasporta direttamente Nel nostro centro operativo mobile Perfetto A questo punto ragazzuoli Avremo già preso il veicolo del nostro amico Vi dico un'altra cosa Se premendo R2 Uscirete e il veicolo sperisce Ovviamente non vi preoccupate L'avete già salvato Basta andare su servizi E richiedere il veicolo personale Dal centro operativo mobile Come vedete io l'ho richiesto E come vedete me l'ha spawnato in mappa Adesso lo faccio vedere anche dalla clip video Io vado verso ovviamente il veicolo che è spawnato E come vedete è il veicolo del nostro amico Quindi ragazzuoli Glitch veramente facile È ritornato il vecchio glitch Se vi è piaciuto questo video Lasciate un bel like Condividete Iscrivetevi al canale E noi ci vediamo al prossimo video Bella